preparato quasi buon pomeriggio a tutti ecco abbiamo roberta modugno che oggi farà lezione e a lei rivolgiamo un affettoso augurio anche perché questa settimana non solo farà lezione qui a noi alla scuola ma dopo domani presenterà il suo libro che ha scritto su roba e dove tra l'altro il libro verrà presentato da nostri vecchi amici e uno lo avete avuto come docente o gesù dimmi nomi che c'ho un attimo di nicola ianello e poi l'altro da che arriva da brescia anzi non è brescia perché adesso vive verona vive a verona anzi stava a venezia prima no no vive a venezia ma insegna a verona verrà pure lottieri e quindi sono due vecchi della scuola di liberalismo vecchi docenti della scuola di liberalismo quindi chi fosse per caso a roma dopo domani viene a via borgognona alla confedizia e quindi vede intanto roberta dal vivo ma anche gli altri due e detto questo volevo semplicemente ricordare a tutti quanti che diana termese terrà la prossima elezione giovedì giovedì che viene ma che lezione che doveva essere l'ultima prima della premiazione che parlava anche come presenza eccetera ma noi contiamo subito con lezione a termine di quella lezione di dare anche a un altro paio di appuntamenti tentiamo di recuperare il le due tre persone che e non sono potute venire a fare lezione uno perché sarà beccato il comito ma altro perché sarà verso le strade ecco quindi cose che sono che succedono sempre alla scuola di liberalismo perché essendo non solo a titolo gratuito per loro e quindi noi chiediamo a tutti i docenti di venire loro vengono volentieri ma non è che gli diamo una giusta quella che sarebbe un tempo si diceva la giusta merceda quindi noi contiamo di fare ancora uno due addirittura tre lezioni e ma questo ve lo diremo a termine di giovedì prossimo dopo che eh che diana termese ci avrà fatto la sua quella che ufficialmente sarebbe l'ultima lezione del corso ma siamo invece alla ma per ultima e quindi Roberta Modugno che è una nostra docente Roberta De Laida Modugno che è una nostra docente ormai storica a lei lasciamo la parola di cosa ci parli Roberta? Grazie Enrico io vi parlo di Robert Nozick e della moralità dello stato minimo contro lo stato massimo eh devo un po' introdurre eh il la figura di Robert Nozick eh nel suo contesto eh intellettuale storico intellettuale io ho delle slides provo a condividere lo schermo però l'organizzatore ha disabilitato la condivisione dello schermo partecipante va bene possiamo farne anche a meno in realtà eh non non sono fondamentali queste slide se vuole lo attivo professoressa se se è una cosa rapida sì insomma se non le richiede eh troppo tempo sì ci proviamo ci provo subito se no ne faccio a meno non è fondamentale mh era solo un piccolo aiuto magari per seguire meglio non so va beh intanto intanto parla mentre lui sì intanto parlo dunque ehm allora ehm Robert Nozick eh nasce nel 1938 ehm morirà poi nel 2002 piuttosto prematuramente ehm è stato eh filosofo politico prima e poi filosofo della scienza si è occupato di filosofia politica solo praticamente con un libro un libro che ha vinto tantissimi premi ed è diventato un libro molto famoso che ha fatto la fama diciamo di Robert Nozick cioè anarchia stato e utopia Robert Nozick è stato professore all'università di Harvard e ehm ehm scrive appunto anarchia è stato e utopia eh nel cioè viene pubblicato questo libro nel 1974 eh in un contesto quindi eh molto particolare in un contesto particolare ehm che è quello eh diciamo del libertarismo americano eh fondamentalmente ehm facendo riferimento al contesto del libertarismo americano facciamo riferimento ad una corrente di pensiero che in realtà mette insieme più tipi di suggestioni quindi ehm il avete già fatto la lezione con appunto il con Nicola Iannello su eh Ludvivo Mises quindi sapete cos'è il liberalismo classico della scuola austriaca di economia quindi eh è una tradizione che ha delle radici piuttosto antiche perché diciamo mh affonda le sue radici nel nel liberalismo classico eh del pensiero dei padri fondatori eh della Repubblica americana eh di John Locke e ehm della old right non mi sto a dilungare a spiegarvi troppo cosa era la old right perché perderemmo troppo tempo comunque era quel movimento politico quella corrente di pensiero politica che si è sempre opposta eh in politica interna alle politiche interventiste in economia da parte dello Stato eh le politiche del New Deal rusveltiano all'intervento dello Stato nell'economia e alla ehm diciamo la compressione degli spazi di libertà degli individui e agli spazi di libertà di intrapresa e e che in politica estera si è si è sempre opposta all'intervento eh americano agli interventi ehm militari appunto americani e eh ultima suggestione ma di fondamentale importanza per il libertarismo americano è il appunto la scuola austriaca di economia e in particolar modo il pensiero di Mises ora mettendo insieme tutto questo appunto eh soprattutto negli anni sessanta eh sulla scia anche di eh una serie di fenomeni come eh la guerra del Vietnam ehm il permanere il perdurare eh delle politiche del New Deal rusveltiano eh il perdurare anche delle eh di livelli di tassazione piuttosto alta e di compressione insomma degli spazi di libertà individuale eh che eh che eh perdurarono nonostante la fine della seconda guerra mondiale eh bene mh in questo eh in questo periodo appunto ehm in questo periodo ehm ecco condividi schermo eh dunque mh ecco in questo periodo ehm si sviluppò si si sviluppò il eh il libertarismo americano ecco ehm protagonisti eh il protagonista principale del libertarismo americano è Murray Newton Rothbard che è anche stato un anarcho capitalista e ehm diciamo che eh un tratto caratteristico eh del un altro tratto caratteristico appunto del libertarismo americano eh che che viene ovviamente anche dalla scuola austriaca di economia è eh la la fiducia il fatto di credere fortemente nel ehm nel libero mercato nella bontà del libero mercato e quindi della possibilità degli individui di agire liberamente e ehm di agire liberamente e ehm facendo coincidere ovviamente libertà individuale e responsabilità individuale perché questo forse è un elemento che si eh sottolinea a volte troppo poco ehm eh si sottolinea troppo poco cioè che ehm la eh libertà dell'individuo eh va sempre di pari in passo con ehm la responsabilità individuale ovvero sia l'individuo nel suo agire nel suo agire razionale eh si assume sempre la responsabilità delle proprie azioni eh non viene mai considerato un essere eh diciamo minorenne dallo Stato ecco un altro aspetto ehm tipico del libertarismo è il rifiuto di qualunque concezione di un di uno Stato paternalista di uno Stato appunto che ehm tenga per mano l'individuo che lo accompagni nella sua vita e che lo consideri appunto un eterno minorenne da tutelare e da proteggere eh Robert Nozick scrive questo suo famoso libro Anarchia e Stato e Utopia ecco poi vorrei risottolineare ancora il clima mh storico eh diciamo il contesto storico in cui eh escono questi esce questo libro di Nozick che è appunto il clima che si era venuto a creare eh con la guerra del Vietnam ehm nel millenovecentosettantatré era uscito eh un lavoro che è uno dei classici di eh Murer Rothbard eh per una nuova libertà il manifesto libertario ehm che eh in modo particolare risente proprio del clima dei primi anni settanta fine anni sessanta e primi anni settanta quindi un clima ma anche di ehm di ribellione se vogliamo e ehm un clima in cui eh gli americani ehm marciarono eh appunto su Washington per chiedere la fine della guerra del Vietnam eh una realtà in cui eh si era scoperta anche la eh appunto la la crudeltà in qualche modo di uno stato che attraverso la coscrizione obbligatoria la chiamata obbligatoria alle armi aveva mandato milioni e milioni di giovani americani a morire nelle paludi del Vietnam ecco questo è un po' il contesto storico e intellettuale che vede uscire sia eh il lavoro di Rothbard cioè appunto per una nuova libertà il manifesto libertario sia il lavoro di Nozick anarchia stato e utopia questo è Nozick per le eh partecipanti femminili a questa lezione vorrei sottolineare che era anche un veramente un bellissimo uomo e poi vabbè scomparso prematuramente e ecco questo è il suo classico anarchia stato e utopia che esce nel 1974 ed esce fondamentalmente in risposta a eh due testi ehm perché eh anarchia anarchia perché eh esce eh in risposta eh e in polemica nei confronti dell'anarcocapitalismo di Murray Rothbard e dei suoi seguaci eh il quale riteneva eh i quali ritenevano appunto lo Stato una istituzione immorale ehm immorale per sua natura perché lo Stato è l'unica istituzione all'interno della società che si mantiene in vita attraverso la coercizione ovvero sia attraverso la tassazione ci sono solo due modi appunto per procurarsi eh per procurarsi entrate eh libera produzione e scambio oppure eh es proprio della proprietà altrui ebbene lo Stato si mantiene in vita attraverso la quella che è appunto la tassazione ovvero sia l'esproprio della proprietà altrui ehm ed esce eh non solo eh appunto mh in risposta polemica per dimostrare che ciò non è vero cioè che lo Stato eh essenzialmente uno Stato minimo eh che è lo Stato appunto sostenuto e difeso da eh Robert Nozick eh sorge e può sorgere eh da una situazione di ehm anarchia come è quella diciamo dello dello Stato di natura ehm dello Stato di natura di eh di Locke senza violare i diritti naturali di nessuno quindi lo Stato non è un'istituzione immorale eh secondo eh Robert e eh eh esce eh appunto anarchia, stato e utopia nel settantaquattro eh settantaquattro è una data abbastanza simbolica perché nel settantatré era uscito il manifesto libertario e eh nel settantuno era uscito un classico della filosofia politica eh un testo che è tuttora considerato un classico della filosofia politica cioè ehm una teoria della giustizia eh di eh John Rawls in cui appunto si eh riflette su che cosa sia uno Stato giusto e eh per Stato giusto appunto a cosa si intende con Stato giusto e eh John Rawls ebbe un ruolo molto importante in quel momento perché rilanciò proprio il suo testo rilanciò i temi classici eh della della filosofia politica cioè ehm che cos'è una società giusta come si costruisce una società giusta e lui dà le sue risposte a al che cos'è una società giusta eh così come appunto ehm Rothbard dà la sua risposta al alla domanda che cos'è una società giusta una società giusta è una società in cui eh la coercizione scompaia completamente ehm l'uso appunto della coercizione eh l'uso della forza deve essere concepito solo ed esclusivamente nel senso della legittima difesa ma eh dal momento che lo Stato si fonda fonda la sua stessa esistenza sull'esproprio della proprietà altrui ovvero sia appunto sulla coercizione eh per avere una società giusta priva di coercizione dovremmo avere una società eh priva di Stato. Allora intanto eh incominciamo dal dall'incipit del del volume di Nozick perché eh ci ci spiega appunto ehm ci chiarisce eh l'intento di questo testo. Dunque gli individui hanno dei diritti ci sono cose che nessuno persona o gruppo può fare loro senza violarne i diritti quindi cose che nessuno persona o gruppo eh compreso lo Stato può fare loro senza violarne i diritti. Tale è la forza e la portata di questi diritti da sollevare il problema di cosa possano fare lo Stato e i suoi funzionari se qualcosa possono fare ecco già la polemica con Rothbard è possibile appunto mh che qualcosa si possa fare e allo stesso tempo la polemica con con Rawls. Quanto spazio lasciano allo Stato i diritti degli individui? la natura dello Stato le sue funzioni legittime e le sue giustificazioni se ne ha rappresentano l'interesse principale di questo libro. Quindi quanto spazio lasciano allo Stato i diritti degli individui? Le nostre conclusioni principali sullo Stato sono che uno Stato minimo strettamente limitato alle funzioni di protezione contro violenza, furto e frode di tutela dei contratti eccetera è giustificato che qualsiasi tipo di Stato più esteso finisce con il violare i diritti delle persone a non essere costrette a fare certe cose ed è ingiustificato e che lo Stato minimo è auspicabile oltre che giusto. Due implicazioni importanti sono che lo Stato non può usare il suo apparato coercitivo per indurre alcuni cittadini ad aiutarne altri o per proibire alle persone determinate attività in vista del loro stesso bene o protezione. Quindi qui troviamo già in questo incipit la polemica nei confronti di Rawls della teoria della giustizia come equità di Rawls perché ad avviso di Rawls una società può dirsi giusta solo e solo se le differenze sociali ed economiche all'interno della di una comunità possono andare vanno a vantaggio di quelli che sono i meno fortunati i più svantaggiati ovvero sia lo Stato che ha il compito per essere appunto giusto per realizzare una società giusta di compensare coloro che sono stati colpiti dalla lotteria della della sorte coloro che sono nati con meno talenti coloro che sono nati eh svantaggiati perché appartenenti a famiglie a famiglie eh non agiate ehm coloro appunto che nascono che nascono in condizioni di indigenza che si trovano in condizioni di indigenza ecco se eh le differenze ehm di status le differenze diciamo economiche eh all'interno della società sono ammesse da John Rawls solo e soltanto se queste differenze economiche possono andare possano andare eh a vantaggio di coloro che stanno peggio cioè possano compensare coloro che sono stati colpiti dalla lotteria della sorte perché non è colpa di un individuo se è nato con pochi talenti con poche capacità se è nato da una famiglia povera eh se se è nato perché non è molto importante se è nato con pochettamente una famiglia poche non è proprio una famiglia che è nato di un'unitazione. È una famiglia di contribuire di un'unitazione di un'unitazione che è nato anche un'unitazione che è nato in una situazione che è nato in un'unitazione le ragioni più svariate anche perché sono dotati di meno capacità nella vita anche perché sono dotati appunto di meno talenti questo è la società giusta per rolls secondo appunto rober nozick solo uno stato minimo è giustificato è morale uno stato minimo cioè quello che si può chiamare anche stato guardiano notturno cioè quello stato che si limita a proteggere appunto gli individui contro le aggressioni contro la violenza il furto la frode contro le aggressioni insomma qualunque altra funzione dello stato finisce col violare i diritti degli individui e quindi lo stato e questo è direttamente in polemica nei confronti di rolls non può forzare alcuni individui ad aiutarne altri cioè non può usare il suo apparato coercitivo ovvero sia la tassazione per costringere alcuni individui a aiutarne altri cioè ad aiutare coloro che sono più svantaggiati per questo esiste la filantropia la filantropia volontaria libera non può appunto la filantropia essere un'attività di stato attraverso la tassazione ma appunto e questo è in polemica nei confronti di qualunque concezione paternalista dello stato non può proibire nemmeno appunto alle persone di mettere in atto determinate attività che nuociono alla persona stessa ma che non vanno però a violare la sfera di autonomia e libertà degli altri individui cioè a dire eh lo stato non ha eh il diritto di proteggere l'individuo da se stesso l'individuo deve essere libero di eh assumere sostanze stupefacenti se lo desidera deve essere libero di assumere alcolici se lo desidera eh deve essere libero di eh commettere anche quei quelli che vengono definiti appunto dai libertari ehm crimini senza eh vittime ovvero sia azioni che sono comunemente considerate immorali ma che non vanno a violare a eh i diritti di nessuno ma che sono appunto libere eh contrattazione contrattazioni tra adulti consenzienti l'importante problema il esempio classico per esempio è la prostituzione eh ovviamente eh in nessun caso deve intervenire eh la coercizione nessuna forma di coercizione deve intervenire dunque ehm allora abbiamo detto che ehm Nozick scrive in polemica con questi due autori fondamentalmente cioè eh Rothbard mh con il suo anarcho capitalismo che considera appunto eh lo stato come un'istituzione immorale che non può non violare i diritti eh fondamentali degli individui eh i diritti eh di eh libertà proprietà perché userà per forza il suo apparato coercitivo per ottenere eh quelle entrate che gli servono per mantenersi in vita ovvero sia appunto la tassazione la tassazione è un furto eh la tassazione appunto eh rimane un furto per Rothbard bene ehm Nozick vuole confutare questa teoria eh questa visione di Rothbard e dimostrare che invece uno stato minimo quindi eh limitato nei poteri e nelle funzioni e nelle funzioni sorgerà eh senza violare i diritti di nessuno attraverso appunto un processo che lui chiama di mano invisibile la classica mano invisibile di Adam Smith cioè senza una progettazione da parte di di nessuno ma si stabilirà appunto eh una situazione di monopolio dell'esercizio della forza e dell'amministrazione della giustizia eh in maniera spontanea in maniera evolutiva per gradi senza violare i diritti di nessuno qual è ehm spieghiamola allora mh spieghiamola allora un po' questa origine dello stato minimo secondo 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 roll secondo Nozick scusate allora Nozick attinge appunto a piene mani eh da Locke e anche da Rothbard e comunque dal clima intellettuale del libertarismo usa appunto eh una serie di terminologie e di ehm sì di terminologie che fanno parte eh che fanno tipicamente parte della eh armamentario intellettuale insomma del libertarismo allora ehm Nozick immagina di partire da uno stato di anarchia cioè una condizione pre-politica una condizione in cui lo stato appunto ancora non esiste cioè lo stato di natura tipicamente Locchiano quello stato di natura in cui gli individui comunque sono dotati eh della classica triade di diritti ehm inalienabili che sono vita libertà proprietà bene ehm questo stato di natura ehm da questo stato di natura eh sappiamo che già Locke ehm sottolinea come sia bene uscire perché che presenta delle degli inconvenienti ovvero sia nello stato di in uno stato di natura in una situazione appunto di anarchia ognuno si farà giustizia da sé perché manca appunto un eh giudice supremo in grado eh di dirimere le controversie in caso appunto di aggressione e violazioni e uso appunto di eh coercizione da parte di un individuo nei confronti di altri e allora eh che cosa avverrà in maniera spontanea appunto secondo eh Nozick secondo Nozick eh sorgeranno spontaneamente eh delle agenzie di protezione cosa sono le agenzie di protezione sono un ehm un organizza degli organismi ecco di cui appunto si parlava tantissimo negli anni settanta e eh i libertari eh dagli anni settanta in poi si sono arrovellati il cervello per capire come eh potessero funzionare ecco all'atto pratico queste agenzie di protezione ma senza aggiungere eh in realtà poi a nessuna conclusione veramente soddisfacente comunque mh a parte queste considerazioni le agenzie di protezione non sono altro che appunto delle eh organizzazioni simili a delle eh agenzie di assicurazione eh presso le quali appunto eh gli individui liberamente decidono di eh assicurarsi appunto decidono di eh entrare a far parte di queste agenzie di protezione pagando 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 un premio eh per ricevere appunto protezione ovvero sia amministrazione della giustizia e protezione contro le aggressioni contro eh la violenza eh ad avviso di Rothbard eh qui ci si ferma qui ci si ferma nel senso che appunto non è necessaria la presenza dello Stato per difendersi dalle eh aggressioni e appunto dalla violazione dei diritti ehm da parte di aggressori ma appunto l'amministrazione della giustizia e eh la protezione contro l'aggressione contro la violenza eh sono servizi che eh possono possono e devono essere vendibili e solo vendibili sul mercato esattamente come tutti gli altri servizi ehm del resto mh beh io sono anche insomma cioè non anche io sono una storica del pensiero politico del resto un tempo eh prima della nascita dello Stato moderno i giudici erano ehm dei dei liberi professionisti erano degli esperti di legge che si muovevano attraverso il territorio amministrando la giustizia dietro pagamento appunto quindi abbiamo anche un un esempio storico e eh le agenzie delle agenzie di protezione appunto ci sarebbero accorperebbero appunto questa amministrazione della giustizia attraverso giudici avvocati liberi professionisti e attraverso un apparato appunto eh coercitivo ehm finalizzato eh alla protezione contro eh qualunque tipo di aggressione eh però ehm dice eh appunto ad avviso di Robert Nozick questa pluralità di agenzie di protezione su uno stesso territorio eh avrebbe comunque degli enormi inconvenienti perché le agenzie di protezione in realtà a un certo punto entrerebbero in conflitto tra loro entrerebbero in conflitto e potrebbero darsi che entrino in conflitto tra loro eh in modo violento anche bene ehm a questo punto eh spontaneamente si istituirà come ehm può avvenire in qualunque mercato una situazione di ehm monopolio di fatto cioè si affermerà un'agenzia di protezione dominante presso la quale si assicurerà la maggior parte della eh popolazione che vive in uno stesso territorio proprio per ovvi proprio per ovviare a eh questo problema torna per le sette e mezza eh proprio per ovviare eh scusami scusami Roberto eh c'è un paio di persone che hanno il microfono aperto eh sì assolutamente ma ecco bravo bravo Davide chiudi bene scusa eh prego prego proprio per per ovviare appunto a questa situazione di di conflitto insomma eh del resto ehm in qualunque mercato eh si può eh si può appunto stabilire una situazione di eh di monopolio di fatto e in questo caso appunto l'agenzia di di protezione dominante eh acquisirebbe il monopolio di fatto eh dell'amministrazione della giustizia e dell'esercizio della forza su un dato territorio ma eh e questo è quello che Robert Nozick chiama stato ultraminimo che non è ancora comunque un vero e proprio stato cioè non è ancora lo stato minimo e perché perché mh proteggerebbe questa agenzia di protezione dominante proteggerebbe solo ed esclusivamente coloro che sono ehm abbonati che hanno pagato il premio di assicurazione nei confronti appunto di questa eh di questa agenzia quindi non eh assicurerebbe la protezione a tutti gli abitanti del territorio ma solo a coloro che abbiano pagato appunto il il premio insomma che abbiano che si siano assicurati presso questa agenzia di protezione eh ma questa agenzia di protezione dominante per poter essere efficace cioè per poter esercitare effettivamente il suo monopolio e per essere dominante eh che cosa deve fare? Deve proibire eh agli indipendenti eh ai cosiddetti free riders agli indipendenti a coloro che appunto non si sono assicurati questa presso l'agenzia di protezione deve impedire a costoro di farsi giustizia da sé cioè di ehm di agire eh appunto nei confronti dei suoi clienti di interferire con i suoi clienti nella risoluzione delle controversie ma questo eh potrebbe potrebbe e andrebbe a violare eh la libertà appunto di costoro che non non si sono appunto assicurati presso l'agenzia di protezione dominante e che sono rimasti in una sorta appunto di stato di natura oppure che eh vogliono costituire altre agenzie eh di protezione e allora ehm qual è l'unica soluzione per non violare i diritti degli indipendenti? L'unica soluzione è quello che eh Nozic chiama principio di compensazione. Ora ehm i clienti cioè devono compensare appunto devono essere compensati questi indipendenti per il fatto di non potersi fare giustizia da sé per non poter interferire appunto con i clienti dell'agenzia di protezione dominante nella risoluzione delle controversie. Bene eh ehm i clienti quindi dell'agenzia di protezione dominante cosa dovranno fare per compensare costoro gli indipendenti? Li devono risarcire garantendo anche a loro dei servizi di protezione che coprano casi di conflitto con i clienti dell'agenzia di protezione. Quindi a questo punto abbiamo effettivamente una istituzione che può essere denominato denominata stato e in questo caso stato minimo cioè comunque una istituzione che detiene il monopolio legittimo dell'esercizio della forza e dell'amministrazione della giustizia su tutti gli abitanti di un determinato territorio e ehm a questo punto eh nasce abbiamo lo Stato abbiamo una istituzione legittima come abbiamo visto finora questa istituzione legittima ehm non eh viola i diritti di nessun individuo di nessun individuo perché appunto ehm il eh non impone alcuna tassazione con la coercizione eh il la tassazione diciamo così è volontaria ed è vantaggiosa perché appunto si acquista presso eh lo Stato minimo si acquistano presso lo Stato minimo ehm questi servizi di amministrazione della giustizia e di difesa contro eh le aggressioni perché appunto la società giusta per eh per Nozic mentre la società giusta per Rawls è una società in cui lo Stato abbia il ruolo di di ridistribuire eh di ridistribuire eh di ridistribuire le risorse economiche eh attraverso coloro che ehm nei confronti insomma verso coloro che stanno peggio ehm la società giusta secondo eh Nozic si fonda solo ed esclusivamente sulla teoria del giusto titolo di di proprietà e quali sono i gli unici mezzi legittimi di appropriazione beh uno è un mezzo diciamo storico perché è il principio no del primo utilizzo dell'omsteading è il principio locchiano cioè qualcuno che appunto eh lavora e trova ehm risorse inutilizzate e un proprio lavoro alla risorsa inutilizzata diventa proprietario ma questo è un principio che ci porta molto indietro nella storia eh giusto titolo di proprietà è solo quello che si ottiene poi attraverso libera produzione e scambio e qui eh Nozic è esattamente in linea con Rothbard attraverso libero eh libero eh nel senso che ci si pone non dal punto di vista di chi eredita ma dal punto di vista del legittimo proprietario che ha tutto il diritto di lasciare i propri beni a chi meglio desideri ai propri figli alla propria famiglia alla propria eh compagna al proprio compagno eh ad un gattile ad un canile eh ad una ad una organizzazione benefica non deve esserci alcuna eh interferenza da parte dell'istituzione stato eh nella libertà del legittimo proprietario di lasciare i suoi beni a chi meglio desideri idem libere donazioni eh una società giusta si fonda sulla libera donazione quindi libera produzione e scambio libera eredità libere donazioni quindi esattamente il contrario di quello che accade in Italia perché è in Italia anche se tu vuoi fare una donazione ci devi pagare le tasse per esempio ehm la donazione non è libera libera donazione appunto e ehm tra l'altro la libertà di donare ehm questo è un tratto mh tipico eh che sottolineano i libertari e anche Robert Nozick ehm stimola il senso di responsabilità nei confronti eh di chi sta peggio nei confronti di chi è bisognoso ehm perché appunto non ci penserà lo Stato cioè lo Stato mano mano mh arrogandosi appunto questo potere il potere di ridistributore di ricchezza ha sottratto alla società civile eh ha sottratto alla società civile quella che quello che era un tempo il senso di responsabilità nei confronti di chi stava peggio e quindi ha praticamente tolto di mezzo quasi la filantropia e le libere donazioni quindi una società giusta si fonda soltanto su questo tipo di acquisizione di proprietà quindi non può eh fondarsi lo Stato minimo eh su ehm appunto eh la coercizione della tassazione eh ma appunto il contributo il premio di assicurazione che si paga allo Stato minimo è libero è volontario eh perché appunto deve rientrare in nella ehm nel giusto titolo di proprietà solo così si ha eh un monopolio legittimo dell'esercizio della forza e dell'amministrazione della giustizia è questo che che determina la legittimità la mancanza appunto di utilizzo di coercizione la mancanza di ehm esproprio eh della proprietà degli individui eh da parte dello Stato minimo torniamo quindi alla giustizia dello Stato minimo contro lo Stato massimo ehm e l'abbiamo in realtà già spiegata perché appunto la giustizia dello Stato minimo si fonda proprio sul fatto di non essere un apparato coercitivo di non usare violenza nei confronti dei propri cittadini bensì di fondarsi su mh su una giustizia su una legittimità della proprietà eh lo Stato minimo acquisisce le proprie entrate ehm su base volontaria per mantenere in vita appunto quell'apparato che serve per amministrare la giustizia e per esercitare eh e per proteggere contro le aggressioni. Sono servizi che offre appunto effettivamente lo Stato e che vengono liberamente acquistati dai cittadini eh che vivono su un determinato territorio eh quindi ehm abbiamo quindi eh gli interlocutori quindi abbiamo detto gli anarcho capitalisti lo Stato non nasce appunto con un atto di coercizione non si mantiene in vita eh sulla base dell'esproprio appunto della proprietà altrui perché per esempio ci dice Robert Nozick che la tassazione eh dei guadagni da lavoro equivale a schiavitù e è la stessa cosa praticamente eh ovviamente ehm Nozick non può accettare la teoria della giustizia come equità ehm elaborata da Rawls cioè eh secondo Nozick significherebbe togliere ai più capaci a coloro che si sono più impegnati nella vita ai più meritevoli eh a coloro non solo che hanno più talento ma più voglia di fare voglia di impegnarsi voglia di sacrificarsi e che quindi hanno accumulato maggiore capitale ecco significherebbe togliere a costoro obbligare costoro ad aiutare altri individui togliere a questi individui e dare a eh coloro che magari non hanno avuto voglia di ehm impegnarsi nella vita o che comunque si trovano in una situazione di svantaggio ma per costoro esiste appunto la filantropia esistono le libere donazioni e solo una società responsabile una società in cui lo Stato non abbia deresponsabilizzato gli individui e la società civile nei confronti del proprio prossimo sarà una società appunto in grado di ehm farsi carico di curarsi anche di coloro che stanno peggio perché gli individui agiscono sulla base di mh delle motivazioni più diverse ognuno ha valori diversi ehm infatti ehm una perché nel titolo di eh nozic c'è il termine utopia c'è il termine utopia perché eh nozic ritiene appunto che eh niente e nessuno possa impedire a mh gruppi di individui a un individuo di unirsi ad altri gruppi per vivere e insieme condividendo gli stessi valori all'interno di uno stato minimo che lascerà la libertà di organizzare eh la vita degli individui come meglio credono quindi gli individui potranno fondare delle comunità praticamente che si basano per esempio sulla sulla solidarietà delle comunità che si basano sulla filantropia oppure delle comunità che si basano eh sulla ehm su su valori eh che possono essere i più diversi eh ognuno appunto può eh avere delle aspirazioni utopiche che possono essere le più diverse le une dalle altre cioè ognuno avrà valori diversi verso la fine appunto del del libro lui proprio lo lo dice lo lo esplicita cioè eh dice elenca insomma una serie di di nomi di persone famose dicendo ognuno avrà i valori più diversi non so Rothschild il il banchiere ehm Maria Teresa di Calcutta ehm Papa Giovanni ventitresimo Mary Monroe eh cioè avranno tutti valori diversi ecco tutti questi individui saranno liberi di unirsi ad altri individui che condividono i propri valori i loro valori per dare vita a delle comunità quindi quindi ci sarà chi vorrà non so unirsi in un kibbutz per esempio e sarà libero di farlo e vivere eh in una comune oppure eh ci sarà chi preferirà vivere in una eh gated community cioè in una comunità chiusa ehm una ehm una comunità appunto eh fondata sulla eh solo sulla sull'eccellenza sulla sullo status sociale su un alto status sociale sarà libero di farlo insomma lo stato minimo è l'unico eh stato eh legittimo che la che prende sul serio i diritti degli individui eh Nozick esclude l'opzione anarcho-capitalista di Rothbard ehm e però nello stesso tempo eh ritiene di aver dimostrato come eh uno stato minimo sia moralmente legittimo perché uno stato massimo come quello rolziano non fa altro che togliere ad alcuni come ho detto prima eh togliere ad alcuni che magari appunto si sono fatti da soli nella vita impegnandosi sacrificandosi studiando la notte e dando obbligando questi individui ad aiutarne altri ecco questo stato massimo non può essere uno stato giusto non è non può essere uno stato legittimo perché obbligando alcuni individui ad aiutarne altri e questa è la conclusione di Nozick abbiamo sostenuto che lo stato minimo è moralmente legittimo che nessuno stato più esteso può essere moralmente giustificato che qualsiasi stato più esteso dello stato minimo violerebbe e violerà i diritti degli individui questo stato moralmente favorito il solo stato moralmente legittimo il solo moralmente tollerabile è anche quello che realizza al meglio le aspirazioni utopiche di innumerevoli sognatori e visionari appunto i valori di tutti rispetto ai valori di tutti lo stato minimo ci tratta come individui inviolabili inviolabili che agli altri non è lecito usare in certi modi come mezzi o arnesi o strumenti o risorse non siamo gli strumenti appunto con cui redistribuire la ricchezza ad altri quello che ci siamo guadagnati è nostro e nessuno ce lo può togliere ci lascia inviolati appunto ci tratta come persone dotate di diritti individuali con la dignità che ciò comporta trattandoci con riguardo rispettando i nostri diritti ci permette individualmente o con chi vogliamo di scegliere la nostra vita e di realizzare le nostre aspirazioni e la concezione che abbiamo di noi stessi tanto quanto possiamo con l'aiuto della cooperazione volontaria di altri individui dotati della stessa dignità come potrebbe uno stato o un gruppo di persone osare fare di più o di meno quindi ci tratta con me come individui inviolati ci tratta con riguardo rispetta eh i nostri valori e la nostra la nostra vita la nostra libertà e la nostra proprietà privata perché senza proprietà privata considerata come diritto umano inalienabile e inviolabile non è nemmeno possibile realizzare i propri valori e la proprietà che ci eh consente di realizzare i nostri valori come persone come esseri umani quindi qualunque esproprio di eh proprietà privata eh diminuisce la nostra possibilità di realizzarci come individui di compiere le nostre scelte di compiere le nostre scelte valoriali ecco in uno stato minimo invece possiamo realizzare le nostre aspirazioni la concezione che abbiamo di di noi stessi eh realizzare i nostri individui ma con l'aiuto e la cooperazione libera e volontaria di altri cioè non attraverso l'imposizione dello Stato deve essere sempre quindi con ognuno ehm si metterà insieme ad altri ma insomma per farvela breve con i soldi propri e non con quelli degli altri io direi che ho finito spero di essere restata nei tempi e nei tempi sì ma finiamo con questo appello ai soldi nostri e non con i soldi degli altri io ho già dato eh volontariamente volontariamente Gavemus ha dato come dire la famosa barzelletta genovese bene e quindi eh viva lo Stato minimo che è quello che ci permette di fare il di dare il meglio di noi stessi e alcune alcune puntualizzazioni a un certo punto ci è parlato di libere donazioni che appunto è libere donazioni le donazioni dove sarei libere da da persona a persona ecco e ma mi è venuta in mente invece una cosa che mi è accaduta quando ho voluto donare qualche cosa allo Stato italiano niente di particolare semplicemente che è morto mio padre nella biblioteca mio padre c'era un mare di roba che riguardava il folklore e conoscendo la direttrice del museo del folklore all'euro e a Roma con un enorme biblioteca ho detto ma senti io ci avrei tre quattrocento libri ah bene bene allora te li porto no fermo eh ah 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 un momento è mica così semplice ma te li regalo mica voglio no tu devi fare un elenco questo elenco lo mandiamo al ministero il quale lo analizza e ci dirà ti dirà se accetta la donazione oppure no cioè le donazioni che uno fa allo Stato devono essere accettate quindi sono in questo caso assolutamente libere da parte di chi lo riceve ma non libere da parte di chi vuole donare c'è un motivo perché evidentemente lo Stato italiano deve aver preso tante rigore e fregature con queste donazioni che adesso dicono guardiamo un po' che cosa mi doni cioè quelli che sai muore la vecchia zia è morta e ti lascia il castello sì ma il castello sta crollando e quindi ci dovessi spendere tanti di quei soldi quindi lo Stato si tutela e facendo addirittura un atto amministrativo per cui io nell'archivio di famiglia adesso ho un pezzo di carta scritto in bella grafia nel quale c'è scritto che Enrico Morbelli ha donato allo Stato 400 libri con tutto l'eleco ecco questo per dire che quando si intende libere donazioni in questo caso non è quello di cui parla Nozzi che di cui ci ha parlato la Modugno è una cosa diversa così come alcuni termini alcuni termini che sono sono usati a proposito di donazioni eccetera e sottintendono un'altra cosa perché Roberta diceva che le donazioni in Italia bisogna pagarci le tasse perché le donazioni sono in Italia vengono considerate anche quelle cose che quei lasciti che uno lascia nel termine lo dice lascia ai propri eredi a propri amici a proprio e allora in quel caso la donazione va a una deve pagare un tributo perché in pratica scavalca tutte le tasse che riguardano le successioni cioè come se fosse un'eredità pittizia e allora lo Stato ti blocca questa cosa perché dice tu vuoi donare perché è vero che non esiste più la successione tra padre e figlio ma tra padre e nipote sì tra nonno e quindi c'è tutta una serie di gradualità anche economica per cui le donazioni hanno necessitano anche di un pagamento di tasse l'ultima cosa che volevo sottolineare dal fatto che noi parliamo dei libertari in italiano però quando si dice si parla di libertari è uno fa un pizzico di confusione perché in Italia i libertari sono anche pannella e i pannelliani sono libertari in effetti quando si parla degli anarcho-capitalisti il termine forse più esatto da usare in italiano non è libertario ma libertariano cioè parti da libertarian e italianizi quindi cioè è una cosa è un passaggio in più solo per identificare meglio la divisione che c'è fra libertari teniamo presente che sono tutte cose linguistiche italiane voi sapete che per esempio è in fuori dei dei patri confini se uno dice liberalismo la gente sgrana gli occhi come dice che cos'è pare che l'intelligenza ce l'abbiamo appena tutta noi latini perché potrebbero capirlo al volo ma gli devi spiegare che libertario scusate che liberale è una cosa e liberista è un'altra cioè alcune divisioni alcune classificazioni sono proprio tipiche della nostra lingua basta però posso intervenire un attimo intervenire se tu la professore io sono l'allievo e cioè qua voglio dire stiamo parlando di un contesto in cui a parte che lo penso pure io ma comunque in cui le tasse di successione come le chiamano in america sono le tasse sulla morte cioè sono qualcosa di illegittimo di profondamente illegittimo la tasca di successione ma è un furto nei confronti di chi ma nei confronti anche nei confronti del resto della società e poi la successione da padre a figlio non è abolita è abolita solo entro cioè fino a un certo tetto è fino se supera una certa cifra non è abolita non è abolita e anche se tu vuoi donare casa tua tuo figlio non appunto devi pagarci le tasse ma perché è perché c'è la successione ho capito ma stiamo parlando di un contesto in cui appunto la tassa di successione è considerata assolutamente illegittima comunque no riguardo al termine libertarian allora piuttosto che libertariano che è cacofonico che in italiano non esiste usiamo allora il termine anglosassone cioè libertarian però siccome la sinistra si è già appropriata del termine liberale e lì cioè del termine liberal diciamo si è fatto una scelta cioè si è scelto di usare volutamente il termine appunto libertario affinché la sinistra non si impossessi anche di questo termine anche del termine libertarian insomma di professoressa l'hanno già fatto hanno fatto anche quello sì lo so che ci sono anche i libertarian di si libertarian ma insomma no ma in italia ci sono io ho conosciuto persone che appartenevano ai centri sociali che si definivano libertari sì la loro libertà era una cosa molto così naif ispirata a Bakunin più che a Rothberg insomma beh vabbè diciamo che dottrinariamente non sono operazioni corrette possono essere operazioni ideologiche ma dal punto di vista qua mi sta comparendo di tutto boh e sul sul video e dal punto di vista dottrinario non sono terminologie corrette insomma no no sicuramente no ecco bravo perché senti io qui ho ho smaneggiato sul sul computer e non vedo più l'insieme da puoi essere tu gabriele a dare la parola a destra a sinistra perché io qua non sono più in grado eh sì anch'io non vedo dunque sì abbiamo pasticciato per per me inserire scusami che cosa era la posta tua Roberta ehm come non ho capito a un certo punto è venuta una schermata di posta era la posta tua? Ah ecco va bene va bene sì eh adesso però vedo in dunque non vedo in piccolo eh le 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 domande nella chat ecco allora vai con la chat eh dunque allora va beh la ingrandisco dunque buonasera grazie per la lezione due domande sull'interpretazione a di sinistra di alcuni principi nozichiani cosa pensa? Oh ecco scusa questo è Saracino eh? Davide Saracino Davide Saracino cosa pensa dell'uso del principio nozichiano direttifica dell'ingiustizia per sostenere il dovere morale di ricompensare gli eredi di vittime di violazioni passate dei principi di libero scambio eh esempio i neri americani eh discendenti di schiavitù ah vabbè sì questo è il principio direttifica un principio storico cioè dire direttifica dell'ingiustizia però di sì di appropriazione eh della della proprietà questo però è un'interpretazione tipicamente tipicamente tipica dell'ideologia cioè che è stata fatta passare eh nell'ideologia woke ma eh nozich in realtà non è che intendesse questo insomma i neri americani discendenti di schiavitù eh allora ma cosa penso io personalmente di questo principio nozichiano che sia un principio storico ehm difficilmente applicabile prima per prima cosa perché dovremmo risalire alla notte dei tempi per capire appunto se un titolo di proprietà è legittimo eh cioè appunto il principio eh dell'omsteading il principio l'occhiano eh della giustizia della della proprietà eh dovremmo risalire veramente alla notte dei tempi quindi io personalmente lo vedo impraticabile e non solo ma eh vedo in mh ingiusto eh addossare a eh individui presenti attuali colpe che loro mh in realtà non hanno insomma cioè le colpe dei padri non possono eh ricadere sui figli questo cioè se se chiedeva il mio parere questo è il questo è il mio pensiero questo è ciò che penso io e si rischia appunto di eh scivolare nell'ideologia woke cosa pensa della classificazione di azioni inquinanti come immorali secondo un'interpretazione stringente dello schema nozzicchiano per esempio se fumo guido inquinando sto aggredendo altri violando quindi i loro diritti fondamentali allora se fuma ehm e eh io subisco cioè c'è sempre il discorso del principio del principio del principio di non aggressione allora in una società in cui appunto tutto sia privato eh un'azione inquinante se se qualcuno ha appunto una fabbrica che inquina e che va a gettare eh le le i suoi agenti inquinanti eh nel mio bellaghetto eh ovviamente io lo denuncio perché aggredisce la mia proprietà privata quindi eh secondo i i libertari di cui fa parte anche nozic in realtà eh il le questioni dell'inquinamento si risolvono all'interno sempre di uno schema di privatizzazione uno schema privatistico il discorso del se fumo eh se fumo ehm se fumo ehm e io sono presente eh e subisco il fumo passivo eh tu mi stai aggredendo sì stai facendo un'azione eh di aggressione quindi io posso rivalermi insomma su di te posso andare dal giudice e dire guardi questo mi fa subire il fumo passivo non so io sono nello stesso ufficio con eh con dei fumatori che mi fanno subire il fumo passivo eh il fatto del guido inquinando è molto controversa la cosa appunto cioè quanto si inquina guidando ehm non 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 saprei cioè è una questione troppo controversa ecco il quanto si in verità Roberta eh ogni soprattutto che c'ha diesel deve fare deve fare le verifiche una volta l'anno per i fumi ecco quindi sì in effetti in effetti c'è già chi ti bacchetta se tu inquini e questo qua vale soprattutto per le vecchie macchine che vanno sì sì lanciando dei segnali peggio degli indiani ecco certo sì sì a volte ti passa vicino a quello la strada quindi sì sì bisogna fare una revisione no sui fumi e queste cose qua le emissioni insomma poi ehm non riesco a vedere altre domande sembrerebbe se c'è qualcuno che vuole fare una domanda o la scrive in chat oppure alza la mano per favore nel frattempo vorrei fare un'osservazione se è possibile riguardo proprio la storia della tassa di successione sì io io penso che sia anche fortemente del responsabilizzante rispetto all'acquisizione della proprietà perché in effetti ma chi me lo fa fare a eh ad acquistare una casa se poi un domani dovrò anche pagare le tasse per lasciare un meglio mio figlio dovrà pagare le tasse per ereditarla non so se lei condivide questo questo punto di vista sì sì vorrei che ci vedessimo io non la vedo più vedo non so come fare chat vedo solo la chat riunione e basta adesso quindi ecco adesso la vi vi rivedo tutti eh sì sì ehm sono d'accordo con lei è un disincentivo appunto eh nell'acquisire proprietà nell'impegnarsi appunto anche ad accumulare ricchezze e non solo ma diciamo ehm allenta i legami familiari familiari davide 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 che vuoi spegnere sto microfono davide cancellalo e cacciolo fuori no se ha qualcosa da dire me lo dica no 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 ma prima c'era il telefono quindi non è che eh comunque allenta anche i legami familiari allenta i legami familiari e incredibilmente allenta anche i legami sociali la la tassa di successione e l'intromissione dello Stato eh nel dire a chi e quanto puoi lasciare eh e a chi perché comunque voglio dire eh una persona eh dovrebbe essere libera di decidere appunto eh anche a chi lasciare le proprie cose eh soprattutto secondo me perché noi ci dimentichiamo che esistono anche i casi di cosiddetta indegnità assolutamente per quale motivo la legge deve obbligarmi a lasciare qualcosa magari a un figlio che mi ha trattato sempre male o che non ha mai voluto avere niente a che fare con me e non eh che so a una domestica che invece ha avuto cura fino all'ultimo giorno di me della mia persona certo 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 ho una comunità che si occupa eh di di persone bisognose di bambini abbandonati di di orfani eh cioè voglio dire di realtà ce ne sono tante tantissime la società è molto complessa insomma se dice Tommaso Tommaso Fasano il quale peraltro ha comprato il tuo libro e verrà mercoledì prossimo per farselo per voler la dedica eh Tommaso cosa vuoi dire adesso? Buonasera volevo chiedere in pratica c'era una come si può dire eh un un vincolo che praticamente poteva eh compromettere lo sto minimo che sono gli stati estesi che eh vanno a incidere negativamente sullo sto minimo quindi significa che forse collettivamente a livello globale si dovrebbe adottare una misura da stato minimo perché altrimenti c'è c'è chi potrebbe influire negativamente su sugli stati minimi allora mh intendiamoci stato minimo mi sta dicendo anche come territorio come estensione di territorio? No 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 come sistema di stato come c'è un un stato che aggredisce lo stato minimo potrebbe inficiare negativamente sullo stato cioè diciamo c'era uno stato autoritario che va a pregiudicare le regole di uno stato magari libero e più democratico. Beh però lo stato minimo dovrebbe avere gli strumenti per potersi difendere nel senso che comunque uno stato minimo si dota di un esercito si dota. Ma è su quello la condizionale in pratica o è a livello globale che tutti c'è questa specie di rispetto reciproco perché proprio sono i problemi magari adesso non vorrei ampliare però è su questo che si basa la concezione di chi impedisce libertà a chi magari difende la libertà e c'è questa differenza di di visuali che sono inconciliabili per per chi come vuole vedere la libertà perché eh sì eh cioè allora mh cioè allarghiamo il discorso e diciamo appunto eh sì è molto bello pensare a tante ehm piccole comunità che si autogovernano ma allora dovrebbe essere così tutto il mondo cioè a livello globale e perché eh se non ci fosse appunto poi una istituzione come la Nato che alla fine ci protegge tutti quanti eh dagli aggressori quelli veri quelli brutti grossi e cattivi e eh che facciamo quindi eh bisogna stare attenti sì eh nel senso a non farsi trascinare infatti a non farsi trascinare troppo anche dal fascino di certe di certe idee di certi pensieri ehm lo stato minimo comunque non è detto che non possa avere un esercito forte delle armi eh potenti eh cioè lo stato minimo può essere uno stato cioè i cui finanziatori appunto finanziano eh la costruzione di un apparato difensivo eh particolarmente temibile e quindi eh però appunto non 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 possiamo parlare appunto come eh sì come parlano eh molti libertari di piccole comunità che si autogovernano perché così sconfiniamo sconfiniamo poi nel nell'essere poco pratici ecco va bene eh siamo ci abbiamo altre cose se no ci salutiamo c'è un'altra domanda dalla chat ah leggila altre due domande allora una è di Irene Ivana e credo spero di aver letto bene che dice salve una domanda sull'aspetto volontario del versamento dei contributi alle casse della compagnia di sicurezza e gemone appena diventata stato minimo cosa dovrebbe spingere i primi contribuenti a a continuare a pagare visto che il servizio è garantito e in caso di pochi fondi come potrebbe lo stato rimanere efficiente nell'amministrare la giustizia? Grazie. Eh si rischierebbe di tornare indietro cioè si rischierebbe di tornare nel caos si rischierebbe di tornare nello stato di natura da cui si è partiti e nessun cittadino nessun abitante di un determinato territorio nessun cittadino dello stato avrebbe alcun interesse a farlo insomma perché eh i contributi sono volontari perché eh appunto le persone si sono rese conto che eh è rischioso altrimenti vivere senza eh un'istituzione che ti protegga insomma e che ti difenda dalle aggressioni che amministri la giustizia eh cioè si rischierebbe di tornare al caos eh quindi è è questo questo come dire questo dovrebbe essere l'incentivo ecco eh dei contribuenti e dovrebbe essere anche questo a risolvere il problema quindi dei freeriders nel senso che dovrebbero esserci a questo punto contributi a sufficienza per poter proteggere anche i freeriders. Poi l'altra domanda invece è di Vincenzo Cortaluri che chiede se c'è uno stato tra virgolette più minimo cioè se esiste al mondo uno stato più minimo sì beh dunque ci sono esempi sì di stati allora diciamo la confederazione svizzera per esempio è un esempio eh che spesso portano i libertari di eh stato virtuoso ehm molti sorceranno il naso forse ma il principato di Monaco per esempio eh il Lichtenstein ehm c'è una tassazione bassissima nel Lichtenstein un livello di pressione fiscale bassissimo ehm cioè ehm questi sono cosiddetti paradisi fiscali ehm saranno paradisi fiscali ehm beh noi sicuramente siamo un inferno fiscale grazie molte prego prego ci sono altre domande? chiedo a tutti quanti partecipanti. Niente ci fermiamo qui allora e intanto ecco c'è Diana Termes ci vediamo allora giovedì prossimo va bene? Ciao Diana non pensavo che ti saresti immolata no 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 anzi è stata l'attento l'attento l'ho controllata l'ho controllata ha sentito tutto non è appunto dico la ringrazio va bene allora arrivederci a tutti quanti a giovedì prossimo per chi invece è sulla piazza di Roma il mercoledì si trova a passare per via Borgognona salga le scale e venga a salutarci di persona vi aspetto vi aspetto sono già diverse persone che vengono e no volevo anche volevo sottolineare una cosa che mi ha detto appunto che ha scritto il anzi no non l'ha scritta questa ma me l'ha detta insomma il presidente di confedilizia l'avvocato spaziale di testa chi farà una domanda avrà eh in omaggio una copia del volume allora io preparo tre domande così mi porto via un pacchetto va bene va bene va bene va bene arrivederci buona serata a tutti buona serata grazie buona serata grazie buona serata a voi arrivederci grazie a tutti